Perché sembra che una L minuscola volendo Il tram delle venti E poi una brutta persona Chiamata Vmark93 Anche conosciuto con Markkkk Poi c'è Danio che fa 20 mesi Danio ormai siamo sposati guarda Eh si Toc toc chi è? Secondo me è spell killer E Cinasky Eh per Ray Bonpio Cinasky 25 Grazie mille The spell killer l'avete ringraziato Io ho invitato chi c'era Chi manca Morelli Morelli Vieni qua Morelli Morelli Che cazzo significa che manca Non mi aveva invitato Partita classificata magari no Allora multigiocatore partita libera Ma perché non Marco? Eh dai Eh Oh Ma tra l'altro è pronto takedown Però non ve lo passiamo perché c'è la Sven Eh si Oh Che palle C'è la Sven Io non l'ho vista la Sven tra l'altro Poi la devo vedere Anche io ma allora Adesso sono sub La caricata di 5 minuti fa Adesso sono sub La posso guardare Non me la passa mai Non la passa mai Moro tu la prima l'avevi vista Mai mai Tu sei sub Moro Si sei sub Quindi vuoi guardare Moro la prima l'avevi vista Ma sii Cosa 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 Senza di me l'hai vista Balorgo Cosa Hai not Se riesci prendi Prendo Ah no Non siamo in attacco Niente Ti sta uscendo uno che sfonda Ma no Prendi chi vuoi Rook o Doc Eh Doc Dai Oh guarda è uscito il video Vigulo Vigulo io vi Vigulo Le stelle San Montana Voglio un'anatra vegana Ma Vuoi un'anatra vegana? Eh Io ieri No Ho twittato Perché La La Serena Mi ha fatto vedere La pubblicità Del Del cornetto San Montana No Quella nuova Di quest'anno Quella che vuole un'anatra vegana? No Quella era Nasi nelle mani Era Pippo Baudo Musica nelle mani Ma comunque L'anno scorso No Avevamo fatto la pubblicità No simile E poi avevamo fatto Sta parodia Sta Ritixi the Rock Due mesi Grazie Avevamo fatto sta Sta parodia L'anno scorso Con parole senza senso Con Pippo Baudo Nasinella madre Lo fronzate Vigulo 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 Quest'anno Cosa ha fatto La San Montana Ne ha quattro Ha chiesto Alla gente Cosa voleva Che dicessero Nella pubblicità Ci hanno fatto La pubblicità Veramente Davvero Quindi la gente Cosa gli ha scritto Gli ha scritto Sette nani Fagiani nelle mani Fagiani nelle mani I sette nani Con fagiani nelle mani E però Adesso è vera Quella pubblicità Cioè Manca uno qui Il cazzo ha messo Il cuore Sto rincoglionito Io ho uno solo L'ho messo Non è vero Io ho uno solo L'ho messo Uno credo Altro L'ho messo E no E pensavo servisse Un filo alto Il volume del foco Dicono che altissimo Lo sento Non so perché Adesso Adesso lo abbasserò Ragazzi Nella mano Ti ho feriti un casino Ma non sono morti Abbassiamolo da qua Direttamente Audio Uno è morto Uno è morto Anzi Posso anche fare Una cosa del genere Volume dialoghi Un altro è morto Un altro è morto Non ho sfumato No ho sfumato io Allora sento le corde Ok Così ci dovrebbe essere Un po' meno casino E dovremmo essere in grado Di sentire comunque passi Eccetera Tra amiche I sette navi Tiro su Scappa Mi ha ucciso L'ho pure colpito Tiro ma Eh glaz mi ha ucciso Ragazzi Tanto come ho ucciso Vabbè glaz Non ne ho idea Ma mi ha ucciso È quello che ho ucciso Gli ha strappato una colonna No tra mai Che male Pensavo di essere Più che al sicuro E invece A quanto pare no Ovviamente Che miseria Che dolore Eccolo era là Mark E non lo vi E quello Là davanti È nel fumo Ah sì Dai Eh no No non c'era Lo fumo prima L'ha scavalcato Sì la scavalcato Si sparavi Scavalcandolo Non ho entrato dentro Ma entrare dentro cosa Eeeh Coso Era dalla tua Eeeh C'è uno di vita io Niente Sei morto Che bella Che bella Anche se sono sparito Non mi dimentico di voi Grazie Neanche noi ci dimentichiamo di te Eh no Eh no Ehi Mamma mia Moro Cosa non hai fatto Bravo Morelli Così ti voglio Così ti voglio Morelli A parte che non c'hanno neanche provato a spararti Quindi vabbè E la cosa È la cosa più sbagliata Mettersi a trenino Comunque In questo gioco È la cosa più sbagliata Che si può fare Eh sì Eeeh Che cacchio Quindi prendo qualcuno Che sfondi Marco Ma ti sfondo io Ti sfondo Ti sfondo tutto Marco E invece la prendo io Ibana E io cosa prendo E tu adesso Sei senza lavoro No invece prendo Thatcher Perché nel momento In cui tu lancerai Ibana E sarà tutta una merda E non partirà Che arriverò io E farò E me ne andrò C'è Ivan Che non è terribile Ivan non terribile Grazie mille Thatcher è invece In questa mappa È tra le più utili Perché avendo i piani Molto vicini Rompe anche sopra e sotto Quindi Però se vuoi sfondare da fuori Non serve un cazzo Perché sono sempre Piano in alto E non vuoi lancerle Ma da fuori Spero che non ci sia Niente di generale Ma a parte che lo puoi fare Comunque Quindi adesso moro Che moro I pro di Rainbow Six Beh non è a un'altra parte Non era così difficile Ucciderli Contanto che Non l'hanno accecato E si sono messi a trenino Si sono accecati loro Tra l'altro Può essere Perché non hanno neanche sparato Ma non ho capito Perché sono entrati A correre Eh no E quello che dicevo A trenino È proprio sbagliante Ma sono libere Non tanto a trenino È perché sono entrati Correndo Cioè dovevano Affacciarsi E vedere Dove ero Sì perché Se si affacciavano Eri morto Cioè non è che Era che cazzo era Dove eravamo noi ragazzi Mi sa Sì Ho perso Questo è di San Montana Che cazzo Che cazzo Mi hanno rotto Ah sì Sì comunque appunto A piani alti Basta che Pianto La granata sul tetto E via E non sono piani alti Nel mezzo Ciao E niente Però da una parte Puoi buttare Il pene E lo svolto lì E via discorrendo E via discorregge Guarda Lì puoi Poi tacciare Dove? Lì dove T'ho spottato Qua Avete rotto voi O loro? Glanz Chi è? Io sono C'è tanta gente Dentro Ho visto C'era una smoke Ah ma sono sopra Loro ragazzi Sì Ma sono ancora sopra Loro e niente Non serve un cazzo Ma com'è possibile? A caso Ha sparato a caso Marco stai attento Non alzarti Marco Eh l'ho ferito Ma è ancora lì Attento E lui sa dove sono Quanto è fastidioso Il cazzo di afferra Un'altra nel dito Un'andata Uno l'ho ferito Hai buttato giù Quello che avevo ferito Sì Ma sono tutti Fuori dalla stanza Mi hanno rotto ancora Sto drone è di merda Vai in stanza Vai a prendere Vai in stanza A prendere il coso Marco Sì Sto andando E niente È morto anche a Roddy Ho rubato Non posso armi davanti Ricarico Bravo È noto Loro Merda Non importa Coprite Coprite E non c'era nessuno Dentro Sì Erano coglioni Ti ho sparato un attimo Maffanculo Ne uccisi i due Tipo Guarda come io l'ho ciulato Mamma mia Sì Erano tutti nella stanza Grande Quella di fianco Faccio Val Kilmer Adesso Queste le San Montana Compronatum di Santana Che palle Che facciamo Grazie a tutti 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 Entro due giorni Mi rimettono la fibra E voglio condividere la mia gioia con voi Sappiate però Che adesso potrei iniziare a farvi concorrenza Ah vedi Grazie a tutti Grazie a tutti Provaci Provati Ti bucchiamo le ruote Ti tagliamo i cavi Ti tagliamo Scusa 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 Vabbè Li tagliamo di nuovo Piazziamo bombe carta nella centralina Le bombe cacca Le bombe cacca Sì sì Gli esploditi dalla cacca Spreadness 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 Ma lo so che hai preso il tatan Siamo scemo di menta Siamo di menta Siamo del cazzo Olatori Spreadness 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 Cacca Lo metto qua Blonky Allora Che hai sentito il twitcher De twitcher Qui serve un muro Io l'ho già messi Ma io me ne sbatto Sto andando in giro a mettere le terecane Un bacio Che è un drone Un muro dove? Qua Di me Sono stato individuato Spreadness Cacca Dura Non so dove infilare le mie situazioni Spredness 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 L'ho scollato il muro qui Uno l'ho ucciso Mamma mia se stavo per morire Un'altra l'ho atterrata No mi hanno ucciso La tirerà su Tirerà su Asha Attenzione Ma noi non possiamo farci niente Faccia di serpente Vabbè non importa Avrà metà vita Guarda le telecamere Mark E' qua ragazzi Eh aspetta Non vedo E' entrato qualcuno Hanno sfondato una finestra Eh orotimi sarà quello lì L'hanno sfondato qua Qua ragazzi E' certo Oh vabbè Jammer E' arrivato Tachanka Che ti prende E te champa Che lo fai? Moro sei bloccato Ok Ho visto una granata Sì Eccolo un è qua Sì lo sento arrivare Ah vabbè Non è caduto Bene così Dalla Aliezer Io ho paura sopra No sopra è bloccato E c'è la botta Ma la sblu è aperta No no E' bloccato con metallo Si è rotto il legno Ma è metallosa Eccolo uno qua Come nessun nemico rilevato Ma va fanculo Era lì L'ha rotto Presnet 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 che accade Ma è dura Eh sì Vettor Eccolo qua Li ho sgamato Dove? Sta qua lì Ma dove? Sei forse tu pazzo? Ah qua dietro Guarda cazzo Ah io me l'ha rotta Dove? 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 A terra Uno Che trazzi? Bene uccidilo uccidilo Tanto l'altro dovrebbe essere di qua L'altro dovrebbe essere qua Aliezer Eh se non si è spostato Era ancora lì Eh guarda guarda Due kill con Tachan Un attimo Merda Com'è possibile? Dove? Dove? È entrato nella porta Lì dove miravo io È lì È lì È lì alla sinistra Sì Beh Avevo la bottiglia No avevo Avevo il braccio davanti Guarda non vedevo Siamo proprio Appena si è mosso Via Dai Mamma mia Vittoria perfetta Alla mattina Come viene a giocare adesso Vittoria Sylvested Bravo Mamma mia Guardami Guardami Ma mi hai superato Valor Dall'ultimo Mamma mia Se ti ho superato Stronzo Presne cacca dure Presne Ma veramente Lo stagio Poi è sempre lo stesso O comunque Si va sempre a cacciare Nei cazzo Di gli alberati Lo salvano E poi lo riportano là Oppure lo uccidono E poi lo riportano in vita Guardate Mangia la soppressata No Scusa Cacca va Puntellata Cacca va Hai ragione Vettor Scusa Ah effettivamente Lui hai appena detto Due stil Contaccia che è morto Instant Che vuoi farci Che vuoi farci Spendere 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 Cambiamo canzone Per favore Eh scusa Allora vado di montagna Io Dai Io vado Di blackbird Prossima sessione Pathfinder Eh io ti seguo Tra tre ore Marco Io ti seguo Con Con Guazzo Dai Guarda come moriamo bene Benissimo Uno dopo l'altro Basta fare i pro gamer Voglio usare i personaggi stupidi Dai Così si fa Fammi vedere chi è che mi scrive Non c'entrava Era solo Ok L'importante è quello Insomma Presidio Troppo facile Chirurgico Inoltre devi formattare Ma non è vero L'unico L'unico senza Vedi Che maglietta Che maglietta È colpa mia Il ranked sono tornato Sto andando da argento 1 a argento 2 Sto tornando oro Insomma Adesso Sto giocando con tanti di voi Ho due tera di hard disk E voi invece che mi dite? Io ho Tra tutto Un tera e 700 Ce l'hai piccolo Di cui 700 L'hard disk Ce l'hai piccolo moro Il banco di memoria Mangia la sopprezzata Viva la Incazzata Cosa? Viva la incazzata Qua Ragazzi Mani si incazzata Hello Comunque c'è Marco C'è Frost che ha messo la trappola sotto la Sotto la Sotto la Soppressata Allora me la dovete rompere Che io non ci vedo niente Esatto E caveira Ok ma tanto caveira Io sono il master di caveira Beh ma hard disk esterni non valgono Io ho l'hard disk dentro il case 2 tera Eh Velocissimo amici Corro velocissimo Marco dove stai andando? Andiamo insieme Andiamo insieme Non lo so Dove andiamo? Andiamo di qua Andiamo di là Metto già il mirino quello bello O no? Ma si Metto già il mirino quello bello Vai Rompi Ah l'han fatto Niente Andiamo di qua Adagio adagio Di venni Adagio Giovanni Andiamo con Morelli Che secondo me ne sa facchi Dai dai Ho messo un sacco Nooo L'ho messo il jammer qui Guarda che dietro anche magari Vai not Ti dice a distruggerlo notti L'hai di sotto Oh oh mi prendono i piedi Oh no ho finito uno Rotti No ho buttato la terra a uno Provo a rifiutare No ho mancato L'ho mancato L'ho mancato L'ho mancato Eeeh Moro Se vuoi aiutarmi Ah sono colpo sbingo Mamma mia i not Headshot bitch Marco Headshot bitch Come Con headshot bitch Mi aiuti però Qualcuno tira su E no mi giro Qualcuno Lo sapevo Qualcuno Qualcuno Che sturbo Che sturbo Che sturbo Che sturbo Che sturbo Dopo nove mesi tra sub e non sub Oggi sono felice di guardarvi in live di mattina Di solito mi guardavo le live Su youtube Auguri a me per i sei mesi di sub e o aspetto di mandare la don fino a inizio partita Così 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 Dica così Grazie mille Mattiaggio Gentilissimo Arrivo L'ho colpito però eh Più volte Dietro dietro merda Le mie ultime paranote Se mi giro mi uccidono Mi sono girato Ovunque Ovunque Mi ho fatto girare Ragazzi Cioè Ho sbagliato io Ma l'ho colpito No No L'altro è stato nerfato come l'ha morto No no L'ho colpito tre volte in petto Mamma mia L'ho colpito tre volte in petto Doveva morire Io non Non so Operation Hell Operation Hell Con chi ti ha fatto la donazione che non ho capito Mattiaggi Ah Mattiaggi Grazie Signor Mattiaggi Gentilissimo Sempre molto carino Sei stato molto abbonato Grazie Molto fantastico No no L'ho colpito L'ho colpito tre volte ragazzi Cioè Ottima donazione Complimenti Non so Non so che dire Non so Niente Non volevano farmi fare una kill con Glaz Ma Glaz adesso è diventato completamente nulla Sì ma Lì e Zara Gli ho sparato tre colpi No no Non fa più niente Non fa più niente No no Non c'entra Il tre colpi Tre colpi Io devo togliere anche il silenziato Perché adesso veramente Con il silenziato non fa nulla Mangia la limonata No io lo tengo solo per non farmi sgamare Ma tanto quell'altro non lo prendo mai Cioè A me piace usarlo L'ho davvero colpito nel petto Ebbè Sono cavente Che brutta stanza In realtà è la migliore questa Eh non per me Chi è che ha rotto le robe Ah Tenete giubbia eh Però Mangia la Di mamma Un salto di modata Eh sì Diceva così La calcata Sigmund 29 Grazie mille per i 7 mesi Grazie C'era anche un twitch tv qua Lo distrutto Bravo Morelli Aspetta Vabbè li vado io qua dentro Quella l'ho trovato Eh perché questa Questa porta era da chiudere ragazzi Per quello Perché io posso anche gemmerarli Però No a sto punto aspetta Aliezar Mi riprendo il gemmer tanto Qua è inutile Vai E tiro lì che avanti Ma no Non serve là Entrano dall'altra parte Eh ma 4 servono 4 Vuoi passare o pure no? Questa porta qua Ma tolido Guardi 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 guarda Ho visto che c'era gente Che si metteva su qua Come dicevo Ah Quanto? No Quanta vita c'ha Un quarto di vita Gli è rimasto Quanta roba Stanno lanciando Guardi c'è Sigmund Yes Sono aggressivi Quanta roba C'hanno più che altro Eh robottino è entrato Boh Ha individuato me Stai a lezzare lì eh Lezzare Ok Buona Così dopo la capocchia Attenzione che disparano ancora eh Eh tanto prima o poi dovranno Dovranno passare Lezzare Lezzare mettiti là Che sei non ha mai visto qua a controllare Moro non farlo Moro È una brutta idea Anche perché mi passi davanti Non posso Non posso Non lanciare Un aciguacchio È entrato Mi sa Buono ronzo È entrato Un appianabile C'è uno sotto Spanato Sono stato individuato Ah abbandonato la patina Stato sotto Perché c'era uno sotto Non so se è lì Però L'ho sciolto Andrui landsfly Andrui landsfly 8 mesi Ma non era 7 Il numero massimo di tutto Eh no Si va avanti Uno da Oroti Oroti ma nella stanza O Eh no Lì a sinistra di Oroti Due E nella porta Ok Quindi sono tutti i due Lì da Oronzo Oroti non ti modicare Bene dai Bana Ah è sdraiata Aspetta E' bana No Ah è sdraiata Ok Bel lancio Ma l'hanno rotta Eh si che te l'hanno rotta Che cazzo ti aspetti È un cazzo di pulsante Rosso Che pulsa Io non capisco Oroti che posizione di merda L'ho colpito uno Così colpisci moro Non sei inutile qui Infatti mi stai mirando a me Quel laserino Ti sfacco eh Obiettivo conteso Qua qua E' andato lì I bana c'ha anche poca vita Ah Che puttana Te l'ho detto che ero entrato Roti su di due nella stessa stanza Eh no Oroti mi è passato davanti Guarda Guarda Eh Che cazzo Oroti Come è tutto storo tra l'altro Vabbè ma se morivo Nero un problema Eh no Perché È da Per la missione Stai a guardare i punti Guarda questo Eh sì Vaffanculo Non ci si passa davanti Che cazzo significa Ma senti sto merdone Eh niente Marco Riproviamoci Solo stavolta lo faccio io Dai Io vado via Asha Perché Dai Marco Bene tutto Viste un schema Eh non sono io Che ho rischiato il fuoco amico Ragazzi Sì Oroti che mi è passato davanti Eh Fanpass Non l'avevo visto Altrimenti l'avrei fatto Altrimenti l'avrebbe visto Eh Ma penso Intendesse Oroti Cioè In generale Cioè basta Sì penso Io dalla prospettiva di Oroti L'ho visto Che era entrato lì Spresne 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 Caccaatura Dottore La misura La misura La misura Tanto da 3 1 2 3 Spresne Premontura No Sono dovevamo noi No la stanza di fianco Anzi Ok Allora No Ah io mi ho sparato Dai Marco Andiamo Marco Aspettami però Sono un po' lento Va di Un po' lentone Saliamo Facile per te Beh Ma qui c'è il buco Chi è che l'ha bucato? Marco Ci penso io a voi Ok Ok Uno è nell'angolino Uno è nell'angolino Ma questo è qua Vaffanculo E non te È l'angolino È vero Cosa? Eh uno era nell'angolino Ma per tutto L'altro va vaffanculo Ah L'iezza Uno è qua Uno è qua L'ho fatto io da scudo Un troppo In montagna di merda Eh niente Ce ne avevo tre Su di me ragazzi Fatto l'ho colpito E non è morto Uno era là Non so se Uno è là L'iezza Si è spostato Occhio Mi colpisce io no Va bene No Dai ce l'avevo in testa Avevo il mirino Nella sua testa Ma colpito da dietro Smoke Porca miseria Che brutta morte Marco A parte che da lui Non sono morto Che bug Lui mi ha sparato Gli ha puntato la kill Ma ero con i piedi Cos'è succede Cosa sta facendo Cos'era Cos'era quel momento romantico Infatti Ce n'era uno che è passato Roddy E' lì Ma che va a far culo di birra Roddy E' l'acqua bene E' niente Dovrai anche scendere Prima di girare intorno Mi piace così Mi piace così Mi piace così Mi piace così Mi sono cascati i coglioni Roti Ah vedi Eh c'era uno seduto Era un po' stanco Ah guardano il maledetto bastardo Lì dove era Poi i vostri mirini laser Della faba Solo perché lo usa Seren Qui lì E' il pro gamer Usa Seren Il problema è che devi saperlo usare Non serve a niente il mirino laser A niente A farti A far vedere A farti sgamare Prima che esci dall'angolo Ti serve E basta Quale è una buona mina Non ti serve a niente Ha richiuso la porta A ronzo Un minuto Roddy Aia Non sarà più là Ormai Ah Aspetta una cacca dura 30 secondi 20 secondi Però ti devi correre all'interno Sei morto 15 secondi Andate Ah Soprò là E niente Eeeh Bene dai Eeeh Hai visto il signor Panlon Prendne 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 cacca dura Allora Adesso Abbiamo Ma che cazzo Marco Che cazzo Marco Due biote Prendo Valkyrie O Moodle Valkyria Valkyrie Io Rucco Per Come facciamo iniziare adesso Pathfinder se mancano due persone Diriditiri, diriditi Mi piace Marco, che l'ho rovinato e che te va a fastidio tanto guarda Mon boy Dove siamo ancora qui? Vado su a mettere le tromboni Eh niente, io rucco Che palle Marco? Sì quanti a mangiare i nani Tiritili Che cazzo? E' un zimber avviano e non lo sapevo Si? E con un cerco evidente manda Io non posso Un drone l'ho distrutto Oggi recuperate il tempo dell'altra volta E' che abbiamo perso così tanto tempo Mi ha fatto 10 minuti meno l'altra volta Ma si lo facciamo sempre in realtà a quell'orario eh? Si tra l'altro Dopo un po' siamo spompati anche noi Però troppo c'è anche caldo oggi Almeno qua no Non c'è un botto ma non lo posso prendere adesso I muri nessuno ha messo niente qua? Io metto le bottole Dove sono? E sono Di qua da sta parte credo Ma che cazzo? L'ho tirato giù Ma dai non ha vita buco di cuglio No l'ho tirato giù Fuck Uno è andato E' giù back Sono morto Sono morto Sono morto qui Non sono morto io Non ti rifiuto Scappa a roti Sono ancora vivo No No Sono morto No Ora sono morto No Marco Marco viene a salvarmi Eh aspetta Marco Sono vivo Qua sta scendendo Aiuto Sto Sta arrivando dentro Sono in due San Kibana Sono miracolato Marco qua alla mia sinistra c'è gente eh? C'è alla tua destra guardando Bravissimo Marco Marco Ho metà vita Marco E anche roti non è messo No roti è morto Eh non ci sono altro Marco Aiuto Un attimo Obiettivo conteso Lo sto tenendo C'era un buco Poteva entrare tranquillamente Non mi troveranno mai Eh ma morirai Ma che senso ha che lo fa stare Eeeh Vedo tutto nero E niente Che cazzo Era difficile venerti a prendere Eh vabbè E che ci vuoi vari Che brutta morte Che brutta morte Boh attacchiamo in modo decente Eh beh magari Senza montagna Ah avevate ancora montagna Sì lo ero io Eeeh Vai vado di taccero io Parapaparapai Parapapai Parapapapapa Marò Prendi esatto Bravissimo Prendi esatto Doppio piede Dopo pietro Dopo pietro Dopo pietro Io mi mangio tutta la slow playlist Saratata Siamo Are yeh Dai Are yeh Dai Lì ciò vai Lì ciò vai Lì ciò vai Non lì ciò vai Ma ora sei a 0 kill Bravo Eh sì Dove eravamo noi Marco Sì Me le fottete Dove eravamo noi Hanno messo il gemmer Aspetta l'ho trovato, fanculo Ho provato saltando Ah vedi? Identificazione nemico Bravo Roxy Nel borsone, nel borsone Eh vuole salvarsi il drone semplicemente Mh Roti, che faura Cardi Stavo passando io però in off Oh lol Va vincere Nella stranza qui eh Portacci uscite Vado individuato Io zero, mando avanti un drone Guarda Occhio, non lo vedo ma nella stanza qua davanti C'è... Dove sei tu? Esatto, davanti a te hanno fatto un buco Stai attento Eh Eh Ma lì sopra si C'è il quadro Stai attento eh Ma che giri state facendo voi Se vuoi te la sfondo Se vuoi te la sfondo quello eh Te la sfondo... Fuza, prova Qua Era da dentro hanno sparato da quello che ho visto Il buco è lì, è proprio lì sopra Vuoi che mando ancora il drone per vedere a destra e a sinistra? Sì, mi sa che c'è qualcuno nel baglio qua Vai No, non funziona Ah aspetta c'è il jammer qua sotto Sto arrivando Mark vieni a buttare... Sto arrivando, sto arrivando Sono stato individuato Da dove? Buttalo lì di fianco al lizard Ma via da dove Mark dietro Ma è dietro? Eh no, è a sinistra Dove cazzo era? Da sinistra mi ha sparato Sì, è nella stanza con il metal detector Qualcosa? Carica il cappolo animata No Boh Boh Li ha zar Mi sono rotto Sì, fa sfondo a tutto Ma da che parte? Però ti a terra Aia, aia Dai vedi, vedi Allora E' frangola Oh grazie mille frangola Non finito i proiettivi Non finito i proiettivi Occhio che c'è frost Quindi dietro la cosa Potrebbe esserci la trappola Sì Ma... L'auvo di... E' dalla porta lì eh Eccolo Buona Qua tutti... Qua... 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 Qua erano tutti sullo scudo erano finiti Ma do davvero Qua... 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 Abbiamo vinto! Ma ma sono stati bravi Eh si, ho fatto 6 mili Se ne ho vinto Quando mi sono fatto la prima sub Sbaffo, grazie al... Vabbè giusto Grazie frangola Per me sbaffo E' che noi ti vogliamo bene frangola Grazie Oggi ho 98 di ping e basta su... Ma come può essere? Ma non è possibile comunque Comunque Gli operatori preferiti sono Ash e a cavera Gli operatori preferiti... Ehm... Thermite mi piace tanto Mute Ehm... Ash Ehm... Ash c'ha un'arma che... E Mira, Mira mi piace tanto l'arma Ehm... 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 Sergi Sergio c'è di là No... Artificere... Da quanto tempo non facciamo artificere? Che bello! Che cazzo fa schifo! Si fa... No... Guai mi... Qui... Ehm... Ehm... Allora! Spendiamo un po' che adesso... Non so... Non so quello... No... Qui prendo sempre Valghidia, dai! Ehm... L'Armadore è Tamarra, si! L'Armadore è Stratamarra! Cosa... Cosa prendo? Artificeri in Mute? Però è un po' inutile! In Artificeri. Beh, non lo metti nelle finestre... C'è no... Doc è sempre utile! No, prendiamo Doc! Anche se ogni volta che prendo Doc muoio per primo o mi shotta dall'altra parte del mondo Non posso fare più niente, quindi meh, però ci posso provare Infatti con Doc dovresti stare più safe, tranquillo dentro, se ti capita di uccidere bene, stai di supporto Tanto bene o male Rainbow Six, quindi un po' di azione ce l'hai comunque Non è noto Eh non è colpa mia, perché gli altri non stanno caricando, è quello il problema Oh, non ho caricato, non hai più scuse, no excuses Ma tanto adesso carico prima dell'altro, bravo Vedi? Per un pelo eh Anche per un pelo, per quanto basta Oh che brutta mazza Niente, io guardo un attimo Arrotti, ma tu con Bandit non hai gli spinaci? Secondo me hanno brutto idea Con gli spinaci Eccolo, un drone era là Ah quasi, mi avrete preso Mi sa che è morto Marco Sì sì È un altro Un nano L'ho rotto prima che la ciovasse, minghia In verità l'hanno già provato Ma fa un culo la tua Stanno individuando però Dai, me la gioco safe Più safe di così non posso essere Eh, gli ezzar Se riescono a uccidermi qua Sono bravissimi Gli ezzar, vieni a vedermi Trovami Ma sei da dietro, ma come? Eh no, sono dentro lo stipetto, tra l'altro Guarda, guarda, gli ezzar Ora ci sono Ora non ci sono Ma puoi, ci puoi Non l'ho mettuta le telephiose Con uno nel tetto Ma stanno entrando da quella parte lì, aspetta No, ma la birra l'ho bevuta, ragazzi State tranquilli, no? La birra l'ho bevuta Sono un dottore So che bisogna Bisogna berla, la birra Beh? Beh? Marco, sei deceduto No, mi stanno aspettando, eh Mi stanno aspettando Io sono Caveira Beh? Ma non lo so io No, ha fissato il mio puntino Anche quando ero oltre il muro Secondo me città Tu però Tu però Non è possibile Grazie per i due mesi Grazie Mangia Alla cammelliera Questo è qui fuori Non ricordo Dovete sparare Grazie, la piccanza Allora Grazie, la piccanza Grazie, la piccanza Ma non è vero, grazie? Scusa No, grazie sì Ma grazie il cazzo Beh, te Siamo maggioranza Euro di pezzo Alla cammelliera Forse era un uomo Hanno sfondato sopra Oh mamma mia Oh mamma mia Ma quello lì Se ha le posizioni di tutti Ma com'è possibile? Ah Ok Dove? Da dove? Lì azzaro? Dentro di me Merda C'ho paura amici Qua Occhio C'ho paura E no Cura moro E niente E niente Volentieri Ma Ma ho ucciso Sergi Sergio Mi ha ucciso Ma non è possibile? Eh, sono due Bombe E sì C'era una nell'altra stanza Eh, ok Però là ce n'è uno Con che mira Con che minchia Ho visto uno E curarsi tutto qui scoperto E farlo che scoperta E devi andare però veloce E niente No ma questo qui con la pistolina Sapeva dove erano tutti Non è possibile? Eh, io non ho visto Oh Quello mi puzza un sacco E lavati E E niente Si laverà Speriamo Vado di che a vederli Libana Scusi Io andrò di Ascio Anzi Difuso No E invece Eh, faccio 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 Va bene Faccio Buck Sì Già il fatto che usa la re Scusami Infatti No ma prima è stato pazzesco Mi ha seguito attraverso il muro Il mio puntino rosso Che vedevo dalla killcam Appena sono uscito ho fatto tac tac e mi ha sparato in testa Ed ero cavera e silenzia Cioè non poteva sentirmi Arrivavo dall'altra parte E se giù scherzo Oggi è giovedì Dove? Il giovedì patte find Perché non Find the real fly Dove merda? Oggi non sono buono Niente Facciamo il giro da qua Che è il giro sbagliato Ma fa niente Tanto la trovano loro Mi sa sopra Sopra mi sa Tavola da biliardo Sento il gemmer da sotto Sì no per forza Alla del biliardo Ho sentito sfondare una parete Mi si è spaccato Marco Che cavera Marco provo? Sono sopra la cucina Sono Provo a fare Ma mi ha bloccato qui Ah perché L'ho salzato da sinistra Da sinistra Ma non lì E ci ho provato E no a sinistra Ho detto C'hai provato ad andare a destra Ma non è vero No a sinistra A sinistra c'era il gemmer sotto Non potevo Attenti a lo spawn kill Avevano sfondato Tutti li abbiamo sparato E non è caduto Ma allora Sta gente E no St'attento davanti a te Che di solito escono anche da lì Eh infatti hanno Hanno tirato due sparate Allora facciamo una cosa Facciamo una cosa Ma porca Niente Però però Possiamo continuare così Finché Non si disattiva Completamente È disattivato? Ok Occhio hanno lanciato una granata Da sotto Va beh Da dove di azzaro? Da dove sono entrato io Proprio lì in fondo Sapeva che stavo arrivando E' ancora lì È ancora lì cavera Ve l'avevo detto Sì è BITCH Mi ha ucciso con lo shot Tutto sembra pulito Non sapevo che mi potesse vedere Da là Mi hanno sparato? E MB in uscita Dove era l'altro? Frosty stava ricaricando Ah era di fianco Perché Frosty stava ricaricando L'ho visto Sento moro Sento camminare Sono Frosty e Smoke E' un po' che? Quindi per i dei Pi doppi Pi pi doppi Senti lo spiannello Non lo vede E che faccio? C'ho paura E niente Non è che puoi fare tanto Io non tracero in un tv Dove? Lì davanti alla porta Metti che E così Mi rivelo E io lì probabilmente Li avrò affrontati Mamma mia Com'è morta male C'è vero Ma ora Che mi ha fatto No no Allora Prima erano tutti a sinistra Niente L'hanno visto Adesso stai attento Sei morto Faccio un gemo Beh Forse era qua In questo angolino Ma avrà cambiato Bomba individuata Eh si è morto Eh si Kimbrutz Arrivo da destra subito Kimbrutz 3 euro Attento anche Tanti parziali Spara spara Era da fare subito Moro Eh lo so Risultati parziali Del sondagione Termo pole finder A poche ore Dalla live Col 49% dei voti 402 votanti La frase pronunciata Da olivio Che vi incasinerà Nel ringro di xavian Perché hai ricaricato? Eh non l'ho ricaricato Finso le munizioni Sarà Donna nana tutta sana Eh si Grazie mille Dai ho finito le munizioni Proprio in quel momento Eh si Sparavi un colpetto Morivo Non sono abituato Neanche a cambiare Da mitra a pistola Se no Siamo al project Sembra valgiria Sembra valgiria Sembra valgiria Bravo Come sai Sono un burattino E non mi fermo Mol bene Bye Dove cazzo sto correndo Allora Giusto per dar fastidio Mettiamo una qua Dove andare a mettere le tele Cacchio Cacchio Non mi ri 3 jammer Questo ha fatto il suo lavoro L'hanno tornato lo stesso No non è vero Sì la B L'hanno trovata L'hanno cheaper E' sei Fuori Semi Leggono Se parassi al slash rimbadgio Sì Da qua ragazzi Occhio Eccolo Sledge L'hanno tirato un robottino Gli Ezra dove ho ucciso prima il tipo Stanno entrando la porta No Ma non è vero Non c'era Non c'era Andate nella stanza Mark c'è Ash Non lo vedevo Ho la testa da un'altra parte Occhio feud su B ragazzi Eccolo Mark ce n'hai uno a sinistra Sì non è entrato Eh non dovevi sparare Ok è uscita Oh hai noto Esco dall'angolo con cavera Entra mio padre in stanza No Porca miseria Eh vabbè Era una scusa Sì sì tutta una scusa Si capisce quando Mark dice le scuse Entra in stanza di mio padre Mi fa ti sto disturbando per cavera Ad è uscito Salutiamo il padre di Mark Ciao pa Guardate le telecamere Vuoi che ti guarda le telecamere Baccio Sento camminare ovunque Ma non ne vedo nessuno Mamma mia se li sento camminare tutti ma Sì Tronza ti ho scendita Guardato bene si vedeva Da lì Ah sopra Qua Sono in due sono Qua Ti dico quando si affaccia sulle scale in caso Si affacciato No sta salendo E sopra Mamma che dolore Oroti Oroti Sulle scale Ibana Ibana sulle scale A sinistra È puntato Quindi Stai attento E c'era anche blabber dalla bomba Bellissima Erika E niente dai Tu hai vinto ma persa Ah si ci sta Secondo me non ci sta invece Un po' mi è dispiaciuto Un po' mi è dispiaciuto No no Secondo me non ci sta Non ci sta Era Marco un ultimo che schifo Eh si Ero distratto Non vale Bene Ragazzi Possiamo chiedere qua Direi che possiamo chiedere qua Grazie a tutti delle sub Delle resub Delle donations Esatto Delle resub Se avete piacere Al 3 e un quarto E' Fatty finder Facciamo pathfinder Esatto Fatty bravo Stasera video per i sub E niente A dopo Eh dopo Ciao ciao Bravo Marco Bravo Era il telecomando di Favij Bravo Marco Sì proprio Bravo Proprio Favij Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti